Buongiorno, oggi nella nostra rubrica Mani in pagina dedicata ai libri per ragazzi abbiamo scelto cinque titoli di Italo Calvino. Sono titoli fiabeschi, divertenti, alcuni mostrano un po' dei lati inediti di questo celebre scrittore che normalmente si pensa abbia scritto solo per adulti, in realtà ha scritto dei testi bellissimi che possono piacere anche ai ragazzi, soprattutto nelle edizioni appena uscite in occasione del centenario della nascita proprio per avvicinarle a un pubblico dei più giovani e far conoscere l'opera di questo bravissimo scrittore. In particolare cominciamo con un testo adatto anche agli adolescenti. Italo Calvino scrisse la trilogia degli antenati, Il barone rompante, Il cavalier inesistente, Il visconte dimezzato. Sono tre libri molto belli, tra reale e fantastico, che attingono come sapore alla tradizione popolare ma la reinterpretano in un modo originalissimo. Qui Il barone rampante, che è la storia di un nobile giovane che praticamente scappa da casa per andare a vivere sugli alberi, è raccontata sotto forma di graphic novel da Sara Colaone. È un romanzo molto amato che viene spesso inserito anche nelle liste di libri per l'estate, quindi per i compiti delle vacanze dei ragazzi. In questo caso chiaramente non si trova il testo integrale, ma si trova una graphic novel che per il tratto accattivante, per il modo in cui il testo è tradotto, è utilissimo per avvicinare i ragazzi alla bellezza della storia, fargliela scoprire, conoscere la trama. Adesso vi faccio vedere qualche interno per mostrarvi la bellezza di questo testo, che mostra anche una natura selvatica, un po' come il protagonista, che appassiona, vince e diverte. Ci sono anche degli albi illustrati veramente molto belli, con alcune delle più celebri fiabe di Calvino. Questa per esempio è la fiaba di Cola Pesce, che si presta moltissimo a questo periodo estivo, perché racconta la storia di un bambino che continuava a stare nell'acqua, come spesso fanno anche i nostri ragazzi, non voleva mai uscire, la mamma, a forza di chiamarlo, si sgolava, era spaventata perché stava nell'acqua anche durante le tempeste, e un giorno, così, ma proprio in preda alla rabbia, dice ma che tu possa diventare un pesce, se non che con la pesce diventa proprio mezzo uomo e mezzo pesce, gli crescono le pinne, riesce a respirare anche sott'acqua, e per questa sua particolarità viene un giorno chiamato dal re di Messina, che ha delle curiosità sul mondo marino e sottomarino, e quindi lo spinge a fare insomma delle missioni per suo conto, finché poi con la pesce prenderà una decisione, ma insomma non vi svegliamo il finale della storia. Qui le illustrazioni sono di Simona Mulazzani e sono bellissime, è una storia molto gustosa, che è adatta diciamo dai bambini della scuola primaria in avanti, anche insomma per scoprire la bellezza del mare, del mondo sottomarino. Sempre di Italo Calvino, sempre una delle sue fiabe tradotta in albero illustrato, qui si tratta di Giuffà e la statua di Gesso, è una fiaba molto divertente, c'è anche una introduzione di Nadia Terranova, e le illustrazioni sono di Fabian Negrin, bravissimo illustratore, affermato a livello internazionale, che fra l'altro ha dato già vita a diverse fiabe della tradizione popolare italiana, anche per altri casi editrici, qui insomma mette il suo meglio, lo stile è particolare, è interessantissimo, e c'è questo ragazzino Giuffà che deve vendere una pezza di tela per conto della madre, ma gli succedono molte avventure divertenti, fino a una conclusione tutta da scoprire. Qui, sia per le illustrazioni, sia per la bellezza della fiaba, è proprio un punto di partenza anche questo, per far scoprire Italo Calvino anche ai piccoli, proprio assaporando i diversi stili delle fiabe che lui reinterpreta e riscrive, attingendo alla tradizione italiana. Mondadori ha pubblicato una bellissima collana, dividendole per argomento, per esempio il volume che vi mostro qui sono le fiabe da far paura, con le illustrazioni di Pia Valentinis, anche in questo caso, il valore aggiunto di queste edizioni sono chiaramente le illustrazioni, perché esistono anche delle edizioni classiche non illustrate, ma che sono molto meno attraenti per un pubblico di giovani lettori. Qui invece anche l'illustrazione favorisce un'interpretazione particolare delle fiabe, queste che vi mostro sono fiabe da far paura, chiaramente non sono fiabe dell'orrore, ma sono fiabe sempre attinte alla nostra tradizione popolare, che è ricchissima e vale veramente la pena di scoprirla, accanto a quella dei paesi nordici, che viene invece più frequentemente proposta a bambini e ragazzi, dove si trovano le fiabe forse più celebri. Queste invece non sono molto conosciute, sono anche per questo, vale proprio la pena di andarle a scoprire e di riprenderle in mano, ma sono veramente divertenti, ricche di spunti anche di riflessione, e piene comunque di elementi magici, meravigliosi, e quindi vale sicuramente la pena di leggerle, di assaporarle, di scoprirle una per una, andando proprio a pescare, se volete recuperare questi volumi di Mondadori, l'aspetto che preferite, ci sono quelle da far paura, quelle da ridere, e proprio sono suddivise a seconda, insomma, della loro caratteristica. C'è anche la raccolta intera, che però è un po' meno maneggevole e adatta, insomma, ai lettori più giovani, più un volume da collezione. Invece, per scoprire elementi della biografia di Italo Calvino, ecco, Fiori in famiglia, che racconta la storia di Eva Mameli, che è sua madre, è nella collana Donne nella scienza di Editoriale Scienza. È molto interessante perché qui, appunto, si assaggia un po' l'infanzia di Italo Calvino, l'ambiente in cui è cresciuto e che ha contribuito a formarlo come scrittore. Anche qui ci sono delle interessanti illustrazioni di Daniela Iri de Murgia. Il testo, invece, è frutto della ricerca di Elena Accati. Eva Mameli, e non molti lo sanno, così come anche il padre Mario Calvino dello scrittore, erano degli scienziati e insieme hanno creato l'Istituto Sperimentale per la Floricoltura di Sanremo, che è diventato poi il più importante in Italia e tra i primi in Europa. E quindi tutto questo aspetto dell'amore per la natura, i fiori e i giardini, insomma, attinge anche a degli aspetti appunto della sua biografia, di quella di sua mamma. E quindi un punto di partenza, insomma, sia per valorizzare l'opera e il profilo di una donna non così conosciuta e sia per conoscere degli aspetti inediti della biografia dello scrittore, anche in modo divertente, insomma, e quindi appassionante anche per i ragazzi e le ragazze a partire dalla scuola primaria in avanti. Vi ringraziamo per averci accompagnato anche in questa scoperta dei libri di Italo Calvino, Mani in pagina, che con questa selezione di libri per ragazzi vi aspetta la prossima settimana. Grazie a tutti.